Ciao fanazzurri benvenuti sul canale Notizie di Napoli, andiamo alle ultime dall'azzurra. Ma prima se siete nuovi qui già iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdervi nessuna novità dal Napoli. Brian Baumo sarebbe finito nel mirino dello scouting del Napoli. Il Corriere dello Sport riporta le ultime sulla vicenda, specificando che l'attaccante del Brantford avrebbe colpito lo scouting del Napoli soprattutto grazie a due doti. Il Mondiale può aiutare ad arricchire il database, nel quale già ci sono nomi, chiaramente secretati, al Camerun il Napoli è legato, lo ha fatto attraverso l'acquisto di Anguissa, potrebbe rinforzare questo suo rapporto ulteriormente, dopo che si è. Scoperto che anche Brian Baumo, e 23, ha caratteristiche idonee per farci un pensierino. La sua stagione al Brantford è indicativa al di là delle statistiche, tre gol, perché è il rendimento e anche la personalità che hanno colpito, ma questa rimane una fase istruttoria, sarà più o meno lunga, servirà per preparare eventualmente. L'estate che verrà. Per ora, guardare e non toccare. Forse, chissà. Ehi fan di Azzurra, il Napoli dovrebbe firmare Brian Baumo? Lascia la tua opinione nei commenti perché è molto importante per il Napoli.